Buonasera a tutti voi dalla sala conferenze dello studio legale Spadafora De Rosa che ringraziamo per l'ospitalità di questo prestigioso evento che andiamo a spiegarvi ovvero la Coppa Italia della Citroen Cup. In questo lungo viaggio vorrei salutare prima di tutto chi mi accompagnerà ovvero Alice, buonasera. Poi vorrei ringraziare patron Tarek Ricci che ha dato prestigio e lustro a questo torneo andando ad aggiungere anche la Coppa Italia e ringrazio l'operatore Claudio Carlitti. Vi spiego in breve questo sorteggio, abbiamo tre urne, l'urna numero 3, l'urna numero 2 e l'urna numero 1. Nell'urna numero 3 abbiamo le squadre che si affronteranno nei 32esimi di finale e poi dalle vincenti ci saranno i sedicesimi di finale e dalla vincente delle formazioni che si affronteranno nei sedicesimi di finale ci saranno le squadre avversarie e delle formazioni che sono poste nell'urna numero 2 ovvero quelle formazioni che nel corso degli anni hanno ben dimostrato e che sono delle squadre di prestigio ovvero abbiamo Celtic, Custom Villa, Stoccard e Atletico Madrid e poi le squadre che andremo a collocare nei quarti di finale che sono nell'urna numero 1 Milan, Benfica, Bayern Monaco e Inter. Questa Coppa Italia dà un'altra possibilità a tutte le formazioni di collocarsi nella parte alta del tabellone dei playoff del Citroen Cup e dà prestigio alla stessa formazione che andrà a vincere. Ma basta con le parole passiamo ai fatti, passiamo all'estrazione. Quindi passiamo con l'estrarre le formazioni dall'urna numero 3. Le formazioni si affronteranno nei 32esimi di finale. La prima formazione a tagliare il traguardo prestigioso di questa Coppa è il Lione. Il Lione di Magionami e Pacitto quindi andiamo a inserire come prima squadra. Lione che affronterà la formazione del Paris Saint Germain che fin qui ha avuto alcuni problemi ma sta riprendendo come lo scorso anno aveva ben dimostrato. Terza formazione ad essere estratta è la Fiorentina. Fiorentina squadra giovane ma sempre temibile. Fiorentina terza squadra ad essere estratta. Se la dovrà vedere questa Coppa Italia contro l'Olympique Marsiglia. Squadra anche qui giovane ma terribile. Ha dimostrato delle ottime potenzialità. Nell'ultima giornata ha battuto il Real Madrid proprio nel finale. Quinta squadra ad essere estratta. Il Bordeaux. Bordeaux di Capitan Pepe. Un vichingo al servizio della sua formazione. Bordeaux che dovrà sfidare. Sale l'attesa. Il Manchester City di Chiarucci. Squadra in crisi che dovrà puntare a tutti i costi su questa Coppa. ed ora settima squadra ad essere estratta. Sale l'attesa anche perché tra quei bussolotti c'è anche la mia squadra. Ed infatti l'ho chiamata il Sant'Etienne. Il Sant'Etienne che se la dovrà vedere contro. Sant'Etienne contro. Verder Brema. Dopo Sant'Etienne e Verder Brema passiamo alla prossima estrazione. La prossima squadra ad essere estratta è il Chelsea. Chelsea squadra arcigna combattiva con un mister verace in panchina. Chelsea che se la dovrà vedere contro. Il Valencia. Valencia di Perona che nell'ultimo periodo si è rimessa in marcia. Sesta partita che andiamo ad estrarre. Vediamo chi saranno le due formazioni che vanno a comporre la sesta partita di questi trentaduesimi di finale. Lo Schalke 04 di Bomber Ciotola e di Bomber Codeca. Contro. Che loro puntano la Coppa Italia. Formazione che andrà a affrontare la squadra tedesca è l'Ajax. I lancieri che stanno avendo un buon momento. Sono rimaste solo 4 palline. Vediamo chi ci sarà. Il Liverpool. Liverpool di Capitan Manno e di Azzone. Grandissima squadra in quest'ultimo periodo. È rimasto il Porto ultimo in classifica e altri due bussolotti. Se non andiamo errati. Infatti è il Porto contro il Liverpool. Ultimi due bussolotti. Ultima partita da estrarre. L'ottava. Siamo nei trentaduesimi. Real Madrid. Real Madrid sta attraversando un momento difficile. Si deve riprendere contro l'ultima squadra. È il Boca Juniors. Boca Juniors di Sica. Boca Juniors dei fratelli in Torella. Ora andremo a estrarre le formazioni che aspetteranno le vincenti di questi trentaduesimi di finale negli ottavi. Possiamo passare all'estrazione. quattro squadre. Ricordiamolo. Celtic, Aston Villa, Stoccard e Atletico Madrid. Per risultati e prestigio le migliori squadre oltre alle prime. Celtic. Celtic che aspetterà la vincente di Lione, PSG e Fiorentina o M. Io dico che in quel bussolotto uscirà l'Aston Villa visto che ormai ho messo i panni del mago in questa estrazione. E ho sbagliato. Lo Stoccard lo Stoccard quindi che dovrà aspettare Bordeaux, Manchester City, Saint-Etienne, Verdebrema. Rimangono solo Aston Villa e Atletico Madrid. Vediamo chi è la prossima formazione. Sale l'attesa. L'Atletico Madrid che dovrà aspettare Chelsea-Valencia, Schalke 04, Ajax, ultimo bussolotto per correttezza. È l'Aston Villa. Andiamo ad estrarre la Ston Villa di De Rosa che ringraziamo ancora per l'ospitalità. Ora mancano solo le ultime quattro formazioni dove ci sono le teste di serie, le migliori. Il Milan di Ceccarelli e di Cagno, il Benfica, il Bayern Monaco e l'Inter. Vediamo la prima squadra che dovrà aspettare il Lione, PSG, Fiorentina o M. Poi la vincente contro il Celtic. È il Milan. Il Milan quindi aspetterà al Varco queste formazioni. Ora andiamo ad estrarre una parte del tabellone che mi interessa da vicino, visto che da qua uscirà una formazione che potrebbe essere l'avversaria del Sant'Etienne e della mia squadra. Quindi nei quarti ed è l'Inter dei fratelli Cobianchi. ora mancano due formazioni, ovvero il Benfica di Santucci e il Bayern Monaco di Giorgio Natoli. La terza squadra è il Bayern Monaco di Capitan Natoli che dovrà aspettare l'Atletico Madrid che a sua volta al Varco. Attenderà Chelsea-Valencia, Schalke 04 e Ajax. Ultima formazione dovrebbe essere il Benfica di Santucci. Se l'urna non ha fatto scherzi ed infatti è il Benfica di Santucci. Vado a riepilogare brevemente chi si affronterà in questa Coppa Italia della Citroen Cup. Primo turno, 32 simili vilane. Abbiamo Lione, PSG, Fiorentina, Olimpico Marsiglia. Poi Bordeaux, Manchester City e Sant'Etienne Verde del Bremo. Ed ancora Chelsea contro Valencia, Schalke 04 contro Ajax. Poi Liverpool, Porto e Real Madrid, Boca Juniors. Nei sedicesimi si affronteranno queste formazioni che poi la vincente dovrà affrontare. Il Celtic per quanto riguarda Lione, PSG, Fiorentina, OEM e a seguire Stoccarda, Atletico Madrid e Aston Villa. Mentre nei quarti di finale ci saranno Milan, Inter, Bayern Monaco e Benfica. Per maggiore chiarezza e per un quadro generale vi rimando al sito www.citroencup.it. E con questo io ho finito. Vi saluto e vi do la buona sera e ringrazio ancora l'operatore Claudio Carletti, la splendida Alessa alla mia destra e Patron Tarek Recci.